La domanda a Jovatic è vero che due anni fa Roma ha cercato di signarti? Sì, secondo me sì, perché c'erano tante squadre, Roma è sempre stata una grande squadra e alla fine ho firmato per City e sono molto contento per quello. Sì, probabilmente è vero, c'erano molti club dopo me, Roma è ovviamente un grande club, ma in fine ho deciso di signare per City e sono molto felice con la decisione. Ho parlato di questo tema, ho pensato a lui dire qualcosa di così, è una source di prigione per me. Ho sicuramente non l'ho overtaken, ma se ha detto qualcosa di così, se ha fatto queste domande, significa che sono sicuramente nella strada giusta. Questo è il nostro obiettivo. Io aspettavo anche prima che esplode, però l'anno scorso ha giocato bene, ha iniziato benissimo, poi è un pochino calato, ma quest'anno sono sicuro che farà molto meglio. Io ho giocato con lui e so che potenzialità c'è l'ha e spero che le sfrutti al meglio. Secondo me è uno dei più forti in Italia. La domanda è una domanda. La domanda è una domanda. La domanda è una domanda di questo anno. La domanda è un tuo figlio di Giacchino. Il nostro obiettivo è un giusto per te, che ha già provato in Florence. In realtà ho aspettato di stabilire lui anche prima, ma sono sicuro che questo anno lo farà ancora meglio di quello che il anno prima, lo conosco molto bene, lo conosco che è capabile, il suo potenziale e dovrebbe solo fare il più di questo, e in mio opinion è uno dei migliori strikers in Italia. Il mio dovere, diciamo così, sicuramente che ho giocato tante volte, ho assegnato anche un paio di volte, mi ricordo l'Olimpico, quella vittoria con la Fiorentina 2-1, che ho assegnato e ho fatto assist per Lazzari, sicuramente che ci proverò pure a far domani, è una bella sensazione giocare qui, lo stadio sarà pieno sicuramente, aspettiamo un ambiente caldo, siamo abituati a quello e sicuramente sarà una bella sfida. La domanda era, quali le vostre sentimenti saranno avanti a giocare contro Roma? Sarà una testa challenging per voi? Beh, sicuramente voglio scorrere, è il mio obiettivo di scorrere gol, è vero che ho spiegato un po' gioco contro Roma in questo stadio. È sempre bello scorrere gol. Ho scorrato qualche gol contro Roma. Ho ricordato un paio di settimane prima, avevamo 2-1 con Fiorentina. Ho scorrato un gol e ho fatto un assisto per Lazzari. Ho scorrato un'altra cosa. Ho scorrato un'altra stagione, con una buona atmosfera, molto calma, ma siamo già acostumati. con una buona atmosfera, molto calma, ma siamo già a tutti. Con un'altra stagione, 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 con un'altra stagione.